In un periodo così difficile, segnato dall'emergenza Covid-19, quello della residenza per anziani Villa Algisa di Arce è un primato importante. Non vi sono stati casi di pazienti positivi al virus, un primato di cui si può andare orgogliosi. È stato possibile, grazie all'impegno delle nostre operatrici in primis, di un lavoro di squadra importante, di grandi sacrifici in termini di tempi, di disponibilità ed economia da parte di tutta la Villa Algisa. Crediamo nel vaccino che i nostri operatori hanno già somministrato e attendiamo nei prossimi giorni il vaccino a tutti i nostri ospiti e alle strutture. Sicuramente usciremo alla grande da questa situazione, ne sono convinto. Dobbiamo soltanto essere coesi in questo percorso che ci è stato dato da parte dell'Asia. La struttura inoltre è stata fra le prime nel centro-sud Italia a creare una stanza per il contatto e gli incontri in sicurezza degli ospiti con i familiari. Siamo orgogliosi di questa situazione, di questa cosa che abbiamo realizzato e l'abbiamo fatto solo come senso di responsabilità a non avere il distacco totale tra gli ospiti e i familiari. In tempo di Covid-19 però non bisogna abbassare la guardia, guai ad essere superficiali. La superficialità, quando pensiamo che siamo usciti da questo problema, il problema non è risolto, ci sono tante incertezze ancora. Dobbiamo essere scrupolosi in ogni azione perché abbiamo visto dagli ultimi contagi che sono cresciuti vertiginosamente dai contatti di questo periodo natalizio dove il familiare si è rilassato un attimo.